Siamo a Farmacista Più con Stefano Vella, responsabile Centro Nazionale per la Salute Globale, Istituto Superiore di Sanità. Dottor Vella, all'interno della nuova governance del sistema sanitario nazionale di cui si è parlato tanto a Farmacista Più, c'è un pezzo che è quello della governance farmaceutica. Come si può ripensarla e verso dove stiamo andando? Innanzitutto so che il governo ci sta pensando, hanno fatto un tavolo, che noi tra l'altro quando io lavoravo all'AIFA l'avevamo auspicato da tempo, perché un po' il sistema va rivisto. Va rivisto perché dobbiamo mettere insieme l'accesso alle cure con la sostenibilità del sistema, questo penso che l'abbiano detto in tanti. Secondo me si può fare, non è una cosa impossibile, però qualche regola va rivista. Il farmacista secondo me potrebbe svolgere un ruolo molto importante perché ci sono varie cose che volevo dire. Innanzitutto il discorso di portare qualche farmaco, che adesso è dispensato solo in ospedale, in farmacia, previa educazione del farmacista stesso alla dispensazione, che tra l'altro avrebbe il vantaggio di permettere anche un'aderenza migliore. Io penso, perché poi il farmacista... Controllerebbe? Beh, controllerebbe, ha un rapporto molto diretto col paziente, quindi insomma questo sarebbe una cosa importante. Poi l'altra cosa è, per esempio, noi abbiamo sempre detto che andrebbe rivista, questo in accordo anche con l'industria, diciamo il confezionamento di alcuni farmaci, per esempio in alcuni paesi il farmacista si occupa di preparare la boccettina con i farmaci giusti per il paziente, giusti in senso di numero, per cui c'è meno spreco, che tra l'altro non vengono sprecati, lasciati lì nel cassetto e tra l'altro poi riusati la volta successiva, perché un tanto ce l'ha a casa, impropriamente. Allora, insomma, il farmacista ha un ruolo secondo me essenziale, proprio perché noi usiamo delle strutture cosiddette ad alta intensità, come sono gli ospedali, per cose che sono invece a bassa intensità, quindi che andrebbero messe sul territorio. Non c'è bisogno di andare all'ospedale per un acne, non so come, invece oggi in Italia anche andiamo in ospedale, e quindi costa tantissimo l'intervento che invece sul territorio potrebbe costare molto meno. Il farmacista è il territorio, il farmacista è quello che, insieme al medico di famiglia, è quello che ha contatto col paziente. Quindi il ruolo del farmacista, importante, come diceva giustamente lei, sia per l'aderenza alla terapia ma anche per la sostenibilità del sistema sanitario. Beh, certo, noi dobbiamo cominciare a spendere un po' meno, cioè i soldi, certo, sono tanti perché stanno arrivando cose innovative e straordinarie, è vero. Però ricalibrare un po' l'innovatività anche, ci sono dei vecchi farmaci che forse potrebbero anche uscire dal prontuario, penso che questo sia uno degli obiettivi della nuova governance che stanno facendo. Cioè, in un certo senso bisogna favorire i farmaci veramente innovativi e anche non innovativi che però hanno un impatto sulla vita del paziente e diciamo per risparmiare un po' sui farmaci che impattano un po' meno e quelli il paziente li può anche comprare da solo, volendo. Però bisogna anche informare un'altra parte di informazione è quella sul paziente, perché anche il paziente deve essere informato molto bene sul valore del farmaco, su che cosa serve veramente, che cosa è inutile. Perché al voluto del paziente, io ho fatto il medico di famiglia per tanti anni, a volte il paziente stesso chiede di essere curato, così, in assoluto. Però deve capire anche lui che cosa è utile veramente per la sua salute e cosa invece è forse superfluo. Riportare quindi il farmaco in farmacia è uno degli obiettivi appunto dei farmacisti, di cui si è molto discusso anche qui a Farmacista Più. Questa potrebbe essere quindi la chiave per questa nuova governance? Beh, una delle chiavi. Diciamo che sicuramente il farmacista dovrebbe svolgere un ruolo molto importante per sostenere il sistema. Secondo me è stato un po', forse è tralasciato il significato del farmacista come contatto diretto. E questo si vede sempre nei piccoli centri, no? In cui la farmacia è, diciamo, il punto di riferimento. Ma anche nei quartieri di Roma, insomma, la farmacia è poi dove il paziente spesso va a chiedere delle cose e quindi a supporto del medico di famiglia, che a volte ha tante cose da fare e quindi se viene affiancato da un esperto di sanità come il farmacista, perché il farmacista non è un venditore. Ecco, questa cosa è un, diciamo, un membro del sistema sanitario importantissimo. Quindi va rivalutata, va ripotenziato il ruolo di terminale tra la salute o la sanità, come la vogliamo chiamare, e la popolazione. Grazie, grazie dottor Vella. Grazie.